Io dico che se lui fa un riferimento antico il calcio è completamente cambiato. Se dobbiamo pensare a quello che è il Bari adesso, sì, può essere una mina vagante, come lo è il Trapani per altri opposti motivi, nettamente migliori e superiori. Però non c'è dubbio che lo stato di crisi, il fatto che non ci siano soldi, non è che metta i giocatori nelle migliori condizioni, tutt'altro. Il Bari potrà anche fare la partita del secolo, la partita della vita, ma l'esperienza per esempio del Siena ci impone di andare piano con certe situazioni. La verità è che c'è una squadra sull'orlo del fallimento e non mi pare gratificante per nessuno, né per il Bari né per il calcio in generale. E che il Bari abbia problemi, altrettanto non ci sono dubbi. Ma poi la logica qual è? La logica secondo me è più stringente. E' il Palermo che è artefice dei suoi successi o dei suoi insuccessi. Mi pare che sia la squadra, senza essere la corazzata, mi pare che sia la squadra più attrezzata per poter decidere di suo il suo campionato.